Oggi siamo al SAIE perché vogliamo presentare per il sud, per il centro sud Italia, un nuovo sistema, il nostro nuovo nato in casa Aluplast, che è un sistema da 76 mm, si chiamerà Energheto Neo, che continua la filosofia Energheto, che altro non è, che è un sistema senza rinforzo, quindi altamente performante, senza rinforzo metallico, preciso, altamente performante perché sostituisce l'acciaio con delle barrette di materiale sintetico che danno al profilo stesso una qualità superiore per quanto riguarda le performance sia acustiche che termiche. Il mercato sta andando benissimo perché abbiamo, che ci supportano sia l'eco bonus che il super bonus, 110%. Abbiamo dei margini di miglioramento del fatturato che sono strepitosi, mi vergogno anche a dirli, quindi non lo dico anche per scaramanzia, però veramente siamo soddisfattissimi. Peccato un po' la mancanza di materiale che ritarda un po' le consegne, però siamo veramente soddisfatti.